I device di stimolazione periferica portano proprio a un miglioramento di sintomi specifici come il freezing, la deambulazione e l'equilibrio. Il device che abbiamo utilizzato si chiama gondola. Si tratta di un device che attraverso una stimolazione cutanea del piede si presentava come in grado di migliorare dei sintomi motori nella malattia di Parkinson. Insieme ad altri colleghi neurologi abbiamo disegnato uno studio pilota per verificare se la stimolazione meccanica plantare, quindi della pianta dei piedi, è capace di modificare le condizioni di funzionalità cerebrale, prevalentemente di connettività funzionale. Il studio ha portato a delle conclusioni assolutamente sorprendenti e inaspettate. In questo studio pilota abbiamo dimostrato un'efficacia della stimolazione plantare con dispositivo gondola. Abbiamo osservato modificazioni non soltanto della connettività funzionale attraverso la risonanza magnetica, ma anche un miglioramento dei parametri clinici misurati con la scala UPDRS.